Per tutti coloro che si trovano in difficoltà economica e personale, nasce INPS per tutti. Servizi e strumenti per facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza e previdenza fornite da INPS e dare supporto ai cittadini per la gestione delle domande. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 803 164 o 06 164 164 oppure visita il sito inps.it. Grazie a tutti.